strumenti cosa ne pensano rispetto a questa sua analisi. Detto questo adesso abbiamo il domandone. Paolo eccolo qua. Ma sì la facciamo anche oggi la domandona anche se Mauro non c'è ma io sono molto generosa in questa prima parte del duemilaventiquattro. Allora lo dicevamo all'inizio secondo il report del centro studi di un'impresa di quanto si è ridotta la cifra conservata dagli italiani sui conti correnti nell'ultimo anno. Un'impresa ha considerato il periodo ottobre duemila e ventidue ottobre duemila e ventitré. Ho dato una cifra molto precisa adesso c'è il traffico. Li fanno correre troppo a questi corrieri. Marco io vedo eh un numero ecco qua vedo Mirella dalla provincia di Milano intanto Mirella buongiorno e allora il centro studi di un'impresa ci ha raccontato che fra ottobre duemila e ventidue e ottobre duemila e ventitré sono calati molto i soldi dai conti correnti degli italiani. Di quanto? Mirella? Purtroppo sì sono di centocinquantasei milioni e circa. E in realtà invece la cifra è molto più alta Mirella. Mannaggia la prossima volta speriamo appunto che possa rispondere correttamente al nostro quiz. Tiziano dalla provincia di Udine? Eh se non ho capito male centocinquantadue miliardi. Esatto. Esatto. Il dieci per cento della montare precedente. Dieci e mezzo per cento. Bravissimo Tiziano infatti Mirella ha parlato di milioni ma qua invece stiamo parlando proprio di miliardi. Grazie a Tiziano vedremo come darle il nostro il dovuto riconoscimento appunto alla partecipazione al quiz. Insomma tanti italiani una